Quali sono i vostri obiettivi? Come vi siete preparati in questi giorni? Abbiamo fatto una preparazione con il nostro allenatore da una settimana sia qua al palazzetto e poi per due giorni siamo andati a un campo vicino a Roma sulla Savio ovviamente che ci voleva penso che ci stiamo preparando al meglio per farci bene alla Spalmas Grazie! Grazie!